La festa della mamma si festeggia oggi nella maggior parte del mondo, per abitudine cade la seconda domenica di maggio. Quest'anno potrebbe essere più sentita del solito, sia che possiate rivedere vostra madre o i vostri figli per la prima volta dopo l'allentamento delle restrizioni contro il coronavirus, sia che viviate in posti lontani e dobbiate festeggiarla in videochiamata. Le origini della festa della mamma risalgono a secoli fa, e sono collegate al culto della fertilità e della maternità. La festa della mamma, per come la conosciamo oggi, esiste dalla fine dell'Ottocento, quando fu introdotta dalla pacifista americana Henry Jarvis, seguita da sua figlia Anna e poi da Julia Wardow, autrice tra l'altro del testo della celebre canzone Battle of the Republic. Durante gli anni Sessanta dell'Ottocento, Henry Jarvis partecipò a molte campagne per combattere la mortalità infantile causata dalle malattie e alla contaminazione del latte. Dopo la guerra civile americana, iniziò a organizzare giornate di incontri, picnic e altri eventi per promuovere l'amicizia tra le madri che appartenevano a schieramenti che erano stati nemici negli anni della guerra tra nordisti e suddisti.Nel 1870 Julia Wardow scrisse la Mother's Day Proclamation, che esortava le donne ad assumere un ruolo attivo nel processo di pacificazione. Il 10 maggio del 1908 Anna Jarvis, figlia di Henry Jarvis, organizzò nella sua città natale, Grafton, nel West Virginia, a Philadelphia e in altre città eventi dedicati alle madri. Negli anni successivi i festeggiamenti per il giorno della mamma ebbero sempre più seguito, finché il presidente americano Woodrow Wilson ufficializzò la festa nel 1914. La festa della mamma si festeggia in questo periodo perché Anna Jarvis morì il 9 maggio 1905. Wilson stabilì che la festa cadesse la seconda domenica di maggio, data che venne poi adottata in molti paesi occidentali, compresa l'Italia a partire dalla fine degli anni 50. Anna Jarvis, a dirla tutta, si impegnò per molti anni contro lo sfruttamento commerciale della festa, che riteneva contraddire lo spirito iniziale dell'idea di sua madre. La festa del papà si celebra in molti paesi del mondo, tra cui l'Italia, il 19 marzo, giorno di San Giuseppe. Negli Stati Uniti cade invece a giugno. Grazie a tutti.